Siamo amareggiati, non ce l'aspettavamo perché sul 3-1 la partita ormai era chiusa e dovevamo gestirla meglio, questa è l'unica nota negativa che posso recriminare ai ragazzi, per il resto e ci hanno messo il cuore come ormai ci mettono in ogni partita, però purtroppo dobbiamo ancora imparare a gestire la vittoria quando ce l'abbiamo in pugno. E' mancato quel pizzico di maturità proprio sul più bello, anche sul 2-0 abbiamo subito il 2-1, poi siamo riusciti in qualche modo a contenere, siamo riusciti ad andare a fare 3-1, lì la partita bisognava spegnere, bisognava amministrarla, invece purtroppo sono stati 5 minuti in cui la squadra si è rilassata e sono arrivate le due reti della squadra granata. Sì, effettivamente il problema principale è stato il calo fisico che è venuto perché magari sul 3-1 sembrava ormai una partita finita, una partita chiusa, una partita vinta e hanno subito un po' sia il calo fisico che il calo psicologico ai ragazzi e poi ti trovi a subire così, in caso è una situazione anche un po' fortuita, il 3-2 e poi sai come funziona nel calcio, la squadra avversaria piglia coraggio e quindi ci sta che può anche pareggiare la partita. Nota positiva di giornata, il grandissimo pubblico si è giocato di sabato pomeriggio, si temeva che l'orario potesse non favorire l'affluenza, invece erano almeno 800 gli spettatori oggi presenti al San Mauro. Ma sai oggi ero convinto che ci fosse una forte affluenza del pubblico perché ormai questa squadra, questi ragazzi sono entrati un po' nel cuore di tutti, di tutta la città, quindi vediamo ogni settimana, ogni domenica, ogni volta che giochiamo sempre più persone ed ero convinto che tutti i nostri magnifici sostenitori, i magnifici tifosi che abbiamo non si sarebbero persi sicuramente questa partita. Adesso però bisogna dimenticare questo pareggio anche perché comunque non è tutto da buttare e bisogna subito ricaricare le pile per questo rush finale di campionato, mancano ancora tre partite e bisogna fare nove punti. Questo sicuramente, oggi la cosa importante era non perdere, quindi ci manteniamo i nostri otto punti, considerando che la Cerrana è una partita da recuperare, quindi ci siamo assicurati già per il momento del secondo posto. Ovviamente adesso bisogna guardare alla partita successiva, bisogna rimanere concentrati, non perdersi ormai in queste ultime partite, rimanere con una concentrazione assidua e cercare di vincere tutte e tre.